Se in questo momento stai trovando la scusa al fatto che non puoi avere risultati economici importanti del tuo business perché non hai il budget, ti dovresti dare due schiaffoni, scusami se sono diretto in questo caso, sciacquati la faccia, riascolta questa lezione e renditi conto che stai sbagliando completamente a pensare, completamente, non è vero che ti serve il budget, anche perché se il tema fosse questo, ok vai in banca e fatti dare un prestito, il problema del budget è risolto, quindi mi puoi dire che se io adesso ti dessi 50.000 euro in mano, tu non avresti più problemi nel tuo business, lo sappiamo benissimo che quei soldi verrebbero polverizzati nel giro di qualche istante, che poi è quello che capita nella maggior parte dei casi a gente che prova a fare business online, prova a mettere giù qualche soldo, butta quei soldi all'aria perché non ha un approccio mentale corretto e poi si lamenta che non hai il budget, no ce lo avevi il budget e che non hai capito che le tue azioni sono frutto dei tuoi pensieri, per cui se io con i soldi in mano l'unico pensiero che ho è oddio li perderò, i miei preziosi soldi, come faccio, ce ne sono pochi, speriamo che vada bene, secondo te cosa potrai mai ottenere in termini di risultati?